Sono Gianfranco Cribari, la sicurezza nasce nel 1984. Quattro anni, quasi cinque, abbiamo iniziato in piccolo. Qualsiasi imprenditore ha grandi responsabilità, ha grandi responsabilità verso i propri dipendenti, i propri collaboratori, che non sono soltanto persone ma sono famiglie. Un lavoro un po', diciamo, pesante, però alla fine, poi una doccia passa tutta la stanchezza.